Legge di bilancio alla Camera bocciati emendamenti vitali per il territorio aquilano. La denuncia è della deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane. In conferenza stampa, la prima nell'inaugurata da poco sede storica del PD in Via Paganica, due sono le questioni al momento più importanti, la restituzione delle tasse perché il 31 dicembre scade la proroga e la situazione del personale precario. Adesso con questa bocciatura rimane solo il passaggio al Senato. In particolare noi abbiamo due questioni, tra le tante. Quella delle tasse. Ho letto una dichiarazione del sottosegretario Vacca che dice che la risolveranno. Ho capito ma quando, come, va risolta ora perché il primo gennaio le aziende saranno costrette a chiudere i battenti e in qualche modo a dover restituire le somme sospese. E poi la questione dei bilanci dei comuni. Io non voglio ricordare ma, insomma, negli anni passati avevamo già ampiamente risolto il problema dei bilanci dei comuni in questi tempi, addirittura lo scorso anno nel decreto fiscale, in estate. Quindi arriviamo sempre all'ultimo momento e questo non è positivo. E credo che ci sia un atteggiamento molto grave. La verità è che dall'agenda politica il terremoto del 2009 è scomparso e ogni tanto fanno una comparsata, ma la sostanza è che rimangono le bocciature. Questi sono i fatti. Il sottosegretario alla ricostruzione, Vito Crimi, che ha fatto un'improvvisata all'Aquila dopo la nomina, ha fatto alcune promesse, dice la Pezzopane. Il tavolo della regione comunque si riunirà il prossimo lunedì e deciderà se fare comunque una manifestazione di protesta. A sorpresa, soprattutto perché dopo la sua nomina non si era fatto né vedere né sentire. C'è stato un tavolo alla regione, il tavolo alla regione ha minacciato una manifestazione ed ecco qui che il sottosegretario Crimi è venuto bene. Abbiamo avuto un confronto importante e però anche lì, come se si nascesse ora, il governo è da giugno che è insediato, tanti problemi li stanno affrontando. Perché quello dell'Aquila e per quelli dell'Aquila si parla sempre al futuro? In questa legge di bilancio hanno fatto di tutto e di più. C'è ogni cosa plausibile, ma sull'Aquila non c'è niente.